ciao amiche creative e benvenute sul mio canale io sono Loredana Crochet e se mi stai seguendo per la prima volta ti invito ad iscriverti cliccando su iscriviti ed anche sulla campanella ricordandoti di scegliere le opzioni tutte per ricevere le notifiche dei miei prossimi progetti creativi nel tutorial di oggi realizzeremo insieme dei gioielli tessili o meglio dei gioielli lavorati all'uncinetto utilizzando varie tipologie di filati nel mio caso ho lavorato questi orecchini con del cotone impreziositi da un giro di perline bianche per questo progetto io ho utilizzato del cotone numero 5 color bordeaux poi un uncinetto 1,75 due anelli forati internamente potete anche adoperare gli anelli in plastica trasparente che si usano per i tendaggi inoltre delle perline bianche da 2 millimetri due anellini in metallo e due monachelle comunque alla descrizione del video trovate l'elenco dei materiali i link di altri miei video e i miei contatti per qualunque altra vostra richiesta iniziamo il primo step riguarda l'infilaggio delle perline che io ho già eseguito con l'ausilio di un filo di nylon e per seguire meglio questo passaggio vi lascio il link di un mio precedente video in descrizione e nel commento in evidenza successivamente dobbiamo rivestire ogni anello a maglia bassa senza lasciare spazi vuoti senza tagliare il filo dal gomitolo e facendo scivolare in fondo le perline facciamo un cappiolino ed iniziamo a foderare l'anello questa è la prima maglia bassa la seconda e così via lavoriamo in maniera molto molto fitta in modo da non lasciare spazi vuoti la maglia bassa risulta allungata per la dimensione quindi della dell'anello ma è normale questo e proseguiamo in questo modo lavorando una maglia bassa accanto all'altra in maniera fitta e ricoprendo tutto l'anello una volta foderato l'anello chiudete il giro con una maglia bassissima come vedete la lavorazione molto fitta perché se io scorro le maglie basse in giù non c'è nessun spazio vuoto ora dobbiamo decorare l'anello con le perline io ho già terminato un orecchino e affinché questa lavorazione delle perline venga sul davanti occorre lavorare sul rovescio dell'anello prendendo una maglia bassa in costa dietro vediamo subito quindi questo è il diritto dell'anello giriamo sul rovescio e prendiamo una perlina avviciniamo quindi la perlina all'uncinetto lavoriamo ora una maglia bassa d'inizio una maglia bassa in costa dietro quindi prendendo la costa più esterna e poi una perlina quindi lavoro sempre una maglia bassa in costa dietro e prima di chiudere inserisco la perlina avvicino la perlina all'uncinetto e chiudo lavoro poi una maglia bassa un'altra maglia bassa ma con una perlina quindi avvicino la perlina e chiudo una maglia bassa di separazione ed una perlina se utilizzate delle perle di dimensioni superiori a 2 mm è preferibile lavorare due maglie basse di separazione quindi di nuovo una maglia bassa ed una perlina prendendo la costa esterna sempre io ho infilato una quarantina di perline però sicuramente ne avanzeranno quindi proseguiamo in questo modo per tutta la circonferenza dell'anello come vedete il disegno diventa proprio evidente sul davanti una volta che abbiamo inserito l'ultima perlina chiudiamo il giro con una maglia bassissima nel primo punto basso che abbiamo lavorato io ho già tagliato il filo e lo blocchiamo all'interno della lavorazione con un ago o con un uncinetto lo metto come preferite all'interno di queste barrettine in maniera tale da bloccarlo lo facciamo per un quattro cinque volte e poi tagliamo il filo ora con delle pinze da bigiotteria non resta altro che inserire questo anellino quindi al centro qui e poi la monachella ci vediamo dopo gli orecchini sono già pronti per essere indossati io ho utilizzato delle perline bianche ma volevo precisare che naturalmente si possono sostituire con minuteria varia o con svaroschini semi cristalli in base al proprio gusto personale se la mia idea vi è piaciuta lasciatemi un like o un commento e ci rivediamo al prossimo tutorial è